Buongiorno a tutti, anch'io ringrazio Luciano Panzani per l'invito. Mi hanno chiesto di parlare di quale futuro della procedura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. In realtà è una domanda che ad un giudice imbarazza non poco perché non avendo rispetto a voi i rapporti con i clienti, almeno siete voi quelli che mediate i rapporti con i clienti con me, io non saprei che cosa consigliare ad una società in crisi, quale strumento è meglio adottare per risolvere il proprio stato di crisi o la propria insolvenza. Allora ho cercato di ribaltare la questione, ho cercato di ribaltare la domanda e di vederla da un altro punto di vista e mi sono accorto che avevo a disposizione un grandissimo materiale che invece normalmente voi non avete, che sono le statistiche giudiziarie e la possibilità di leggere tutti gli accordi di ristrutturazione che abbiamo omologato dal 2022 ad oggi in modo che così a ritroso ricostruisco sulla base di quali condizioni appunto la strategia dell'accordo di ristrutturazione è stata consigliata, prescelta, perseguita. Allora chiederei alla regia di mandare delle slide che avevo preparato e questa slide è un po' come dire un importante monito per un ritorno alla realtà concreta delle cose. Come vedete le domande di liquidazione giudiziale, quelle del 2022 sono poche ma perché solo delle domande di liquidazione giudiziale ho considerato, ho considerato in questa slide esclusivamente il nuovo codice della crisi. Dopodiché il rapporto tra domande di liquidazione giudiziale e altri strumenti di regolazione della crisi è all'incirca di 95 a 5, cioè il 95% delle domande che entrano in tribunale sono ancora domande di liquidazione giudiziale. Il che non vuol dire che abbiamo aperto in questo 2024-1224 quante sono le liquidazioni giudiziali. tendenzialmente ne apriamo all'incirca la metà rispetto a quelle che effettivamente giungono. Però dal punto di vista della richiesta di giustizia mi sembra importante dapprima indicare e ribadire che attualmente la statistica attuale ci dice che gli strumenti di regolazione della crisi sono una parte minima dal punto di vista numerico, non dal punto di vista intellettuale, diciamo per voi e per il giudice, delle regolazioni della crisi. La slide successiva per cortesia, in questa slide che è il concordato preventivo in relazione agli accordi di ristrutturazione ho preso in considerazione i numeri esclusivamente che riguardano le imprese maggiori. Quindi ho escluso i numeri del sovraindebitamento sia per le liquidazioni controllate, i piani testati, i piani di risanamento e i concordati minori. Questi sono tutti quanti stati esclusi, così come è stato escluso l'esdebitazione, insomma tutto quel settore non mi interessava prenderlo in esame. Avevamo pensato, in molti di noi avevano pensato che la maggiore difficoltà nella costruzione dei concordati preventivi avrebbe determinato un aumento della possibilità di costruire invece di proporre delle domande di accordi di ristrutturazione dei debiti. Mi pare che nell'arco di questi due anni, due anni e mezzo, all'incirca, i concordati preventivi facciano ancora la parte, come dire, la facciano da padrona nello scenario degli strumenti di regolazione della crisi. Sono circa, gli accordi di ristrutturazione sono circa la metà rispetto alle domande di concordato preventivo, in realtà un po' meno della metà. La prossima slide. Questa è una slide interessante, si riallaccia bene a quello che diceva prima Stefania, perché mette a confronto le domande di accordi di ristrutturazione con i concordati semplificati. Qui la cosa che mi interessava era farvi notare come nel 2024 sostanzialmente le domande di concordato semplificato pareggino le domande relative agli accordi di ristrutturazione. Questo vuol dire sostanzialmente due cose. La prima, che appunto, come ci stiamo dicendo, la composizione negoziata sta avendo un certo successo e un certo richiamo e questa può essere uno sbocco, come dire, importante. La seconda, e poi lo approfondiamo meglio, è che gli accordi di ristrutturazione stanno attraversando una fase calante. Si tratta di numeri molto piccoli, nel senso che nel 2024 erano state presentate, mi pare, il numero sia 14 concordati semplificati. Peraltro 5 sono tutti miei perché riguardano la stessa realtà di gruppo. Quindi sono evidentemente, quando parliamo di statistiche così limitate, sono assolutamente da prendere con le pinze e da andarci a guardare dentro fascicolo per fascicolo per cercare di capire in che direzione stiamo andando. La prossima slide, ecco, questa mi interessava perché mette in evidenza l'andamento delle domande di accordo di ristrutturazione. Come potete notare, nel 2019 erano 17, 16, 17 domande. C'è stato il crollo delle domande nel 2020, evidentemente nel periodo pandemico, ma c'è stato un rallentamento generale da questo punto di vista, per poi schizzare a partire dal 2021, sono diventate quasi 30, rimanere stabili nel 2022, da 29 a 27, poi sono diventate ancora nel 2023-29, ma nel 2024 sono crollate ai valori precedenti al Covid. non voglio proprio perché i numeri sono inadeguati per dare spiegazioni di sistema, ma segnalo assonanze. L'assonanza che segnalo è questa, guardate che nel 2021, proprio all'inizio del 2021, sostanzialmente è entrato in vigore il cramdown fiscale per gli accordi di ristrutturazione. Nel 2023, ad agosto 2023, come sapete, conseguenza di un noto caso discusso, il legislatore è intervenuto per reprimere quelli che sembravano una strategia abusiva nella formulazione degli accordi di ristrutturazione, con la conseguenza per cui le domande di ADR sono calate e sono tornate al punto di partenza. La prossima slide, allora, questa qui è una slide che indica, perché poi voglio ritornare al punto precedente, però avevo anche questo dato e ve lo voglio fornire. Sono le domande accolte rispetto alle domande dichiarate improcedibili o comunque rigettate. Come vedete, sono molto poche quelle che sono dichiarate improcedibili nell'arco del tempo. Il grafico si ferma al 2023 e non prende in considerazione il 2024, perché molte delle domande di accordo di ristrutturazione presentate nel 2024 sono attualmente pendenti e quindi non ne ho l'esito. Io ho preferito escluderlo per questo motivo dall'analisi, però fondamentalmente l'accordo di ristrutturazione, cogliendo un suggerimento di Ilaria, che Ilaria mi faceva ieri, questo lavoro vorrei estenderlo al concordato preventivo per cercare di capire chi, come, quando, quale concordato passa sul nuovo codice, perché potrebbe essere oggetto anche questo interessante, come dire, esporre in qualche modo. Comunque c'è una buona possibilità per i creditori che presentano un accordo di ristrutturazione di ottenere l'omologa dello strumento. Del resto il Tribunale è particolarmente concentrato, quando analizza l'accordo di ristrutturazione, con riferimento ai creditori non aderenti, perché sostanzialmente non è che dobbiamo guardare i piani per vedere se in realtà funzionano nei confronti di banche che avranno i loro advisor e uffici legali sufficienti per comprendere quello che succede. Il ruolo di tutela del Tribunale evidentemente è più concentrato sull'aspetto di quei soggetti a cui gli accordi non hanno aderito e era una doppia verifica che è quella del pagamento dei creditori aderenti nel termine di 120 giorni, dei non aderenti nel termine di 120 giorni, di quelli a scadere sempre nel termine di 120 giorni, e poi, siccome sembra scontato, ma in realtà non lo è, anche di tenuta successiva del piano, perché spesso ti capita che invece, cioè a volte può capitare che invece l'accordo che ti presentano sembra poi non riuscire a pagare nemmeno il corrente, questo evidentemente determina alcune perplessità e alcune complessità. Dopodiché la slide successiva è un grafico a torta e cerchiamo, cioè qua è quello che ho trovato dentro agli accordi di ristrutturazione che ho letto. Come vi dicevo, sono tutti quanti i decreti di omologa che ho trovato e sono interessanti, secondo me, per alcuni profili. Allora, come vedete, la stragrande maggioranza degli accordi è stata approvata con l'adesione da parte dell'erario dello Stato. Un'adesione che sostanzialmente non è mai stata coattiva, tranne in tre ipotesi, quando ancora adesione coattiva vi poteva sostanzialmente essere, tranne in tre ipotesi, una delle quali, peraltro, l'adesione coattiva fu necessaria per l'Inps, ma non per l'Agenzia delle Entrate. Questo dato dell'erario e il fatto che siano stati presentati meno accordi di ristrutturazione a partire dal 2024, mi fa ipotizzare che in relazione alla disciplina del cramdown sia cambiato anche l'atteggiamento da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate che devono osservare l'accordo. Nel senso che tanto più la maglia è larga, tanto più c'è il rischio che passi, tanto più c'è il rischio che con il cramdown si giunga comunque all'omologo, tanto più largheggia l'Agenzia delle Entrate nel aderire all'accordo, tanto più si stringono le maglie, tanto meno vi potrebbe essere questa propensione. Sto parlando, come dire, di idee che appunto si basano su pochi numeri e che non conoscono poi il reale funzionamento della decisione interna all'Agenzia delle Entrate che conoscete sicuramente meglio di me, vado esclusivamente per ipotesi. L'altra questione che mi è sembrata interessante è che i piani in continuità senza erario, cioè in cui l'erario era un creditore ma non problematico perché gli altri sono tutti quanti con erario, con creditore problematico, nel senso che variamo da 5 milioni in su di erario da pagare e con la necessità di ristrutturarlo. Ci sono state alcune grandi imprese in questi anni o comunque note imprese in questi anni che hanno presentato una domanda di accordo di ristrutturazione, appunto solamente quattro avevano un piano industriale che ne determinava la ristrutturazione e la continuità. Le altre quattro domande sono state non necessariamente, tra tutte quante queste domande di ADR, sono grandi società, sono grandi imprese, c'è un grande debito da ristrutturare, non è necessario. Ho osservato che c'è stata una procedura in cui la debitoria da risolvere era di circa 350 mila euro, dopodiché ne abbiamo un'altra con più di 70 milioni di euro da risolvere. Tra queste mastodontiche con una debitoria enorme da risolvere, in quattro casi ci siamo trovati di fronte a società immobiliari con una passivo enorme nei confronti degli istituti di credito. Quindi sostanzialmente la scelta dell'accordo di ristrutturazione, in questa ipotesi, è una scelta condizionata dalla necessità di evitare una liquidazione giudiziale con i conseguenti costi e impossibilità di controllare in modo capillare le modalità delle vendite, ragione per la quale le banche preferiscono evidentemente riuscire in qualche modo a condizionare l'imprenditore, a prendere accordi con l'imprenditore, sulle modalità coattive, sulle modalità di vendita di cespiti immobiliari. Se gli accordi di ristrutturazione avranno o non avranno vita, evidentemente, come diceva Ilaria all'inizio, lo dovremmo vedere. Questi sono solamente i primi dati raccolti e in questo modo ho cercato di assolvere ai miei doveri amici.